Easy Go Se non raggiunti la destinazione di Easy Go avrai fallito Se ci riesco, riceverò altre lettere È la mia unica pista Non posso più tornare indietro Posso farcela Farei qualunque cosa per salvare mio figlio Devo farlo per salvare Sean Non ho scelta Non ho scelta Non ho scelta Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.